Questo criminale vive certo tra noi, forse proprio sotto i nostri occhi, e come l'iguana è abilissimo nel mimetizzarsi. L'unica differenza è che l'iguana è orrenda ma inoffensiva, mentre il nostro criminale è probabilmente gradevole a vedersi, però taglia le gole e usa il vetriolo. È un'iguana con la lingua di fuoco. Una rossa follia si è scatenata, un ignoto, inafferrabile assassino è inaguato. Pauroso è il buio nel quale si dibatte la sua anima. Pauroso il demone che è in lui. Pauroso è la diabolica tela del ragno che gli prepara per le sue vittime. Vuoi che ti rompa il collo? Non ti azzardare ad alzare un solo dito su di me. È il dramma di un uomo le cui mani obbediscono solo alla sua mente contorta. L'allucinante vicenda di una creatura umana, vittima a sua volta di un complesso dal quale riuscirà a liberarsi soltanto uccidendo. A presto, a presto! Grazie a tutti.